Hola, io sono Marcus Crone, signori e signori bentornati in una nuova puntata della Technic... Non si chiama Technic, si chiama Tech and Becraft, ragazzi, ci stanno le api. Tech and Becraft for... Oggi puntata completamente a scazzo de cane, in cui facciamo Tutti frutti summa love. Nel senso che... Questa è ancora lì, fluenza, che non se ne va. Dobbiamo riempi... Uh, quello del miele si è quasi riempito? Si è riempito tutto? Si sta riempendo? Si sta riempenso? Quasi, quasi. Siamo a tre quarti. Oggi voglio fare un po' di fluidi. Il primo, che è, diciamo, il più semplice... Ora diamo un'occhiata al colore. Questo qui, nero, quindi facciamo Swift... No, facciamo Swift, perfetto. Dovrà essere assolutamente il coso, lo sludge della Mind Factory. Quindi è molto, 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 molto semplice. Noi qui possiamo anche disattivare questo, nel senso che lo facciamo esplodere. E ci buttiamo dentro. Eccolo qua. Dovrebbe, dovrebbe andare qui dentro. D'accordo. E dovrebbe finire là. Vero? Si, 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 lo vedo. Però, ora che ci penzolo, questo qui... Oh, mi scrivono. Questo qui produce il... Come si chiama? Come ti chiami? Scusa. Lo sludge boiler. Produce cosette poco interessanti, come la Soul Sand, come la Clay, come l'Hash. Quindi a questo point of situation, stavo pensando proprio a fare... Lo lascio qui. Chissà se funziona ancora o no. Si è arrivato lo sludge. E vado in un posto che di sludge ne produce molto, 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 molto di più. Cioè, la nostra farm di alberi laggone. Incredibile. Che, si, regà, ne produce, ne produce tanto. Ne produce davvero tanto. Vediamo un po' se togliamo questo. Eh. E che, caspita! Se ne produce. Ed eccolo qui lo sludge. Non gliela fa? No, 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 gliela fa, gliela fa, gliela fa. Quindi, signore, signori, noi di qua abbiamo un fantasticissimo altro... Come si chiama? Steel Tank. Che si sta riempendo. Di sludge. Wow. È fighissimo. È una figata pazzesca. Ci metterà tanto, tanto, tanto. Ma chi se ne frega. Di qua, invece, voglio fare una cosa fruttolosa. Levati, Tancone. Grazie, grazie. Perfesso. Questa qui è fruttolosa. Quindi la dobbiamo girare di qua. Allora, qua sopra, ho praticamente bombillizzato delle pesche. Dalle pesche ho ottenuto, indovinate un po', le pesche. E con sapling della giungla ho ottenuto altri alberi di, indovinate un po', pesche. Siete bravissimi. Complimenti, davvero, guarda, eh. Non mi aspetterai mai una cosa del genere. Quindi, se io metto un po' di corrente al nostro amico Fruit Pico, vediamo un po' che accade. Attenzione. E... Queste le prende. Però se metto questo, forse deve cercare, ci metto un pochino. Vabbè, facciamo una cosa. Usiamo una tattica prevalentemente romana, che è lo sticazzi. Guardate, eh. E sticazzi? Mazza che schifo ste pesche, maledette. Allora, 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 allora. Intanto io vorrei da mangiando per il sottoscritto. E poi vorrei una chest. Molto bene, una chest di iron. Fantastico. Vediamo se ho degli item... E' anche un po' dukt. Impulse, item dukt. Molto good. E un servo. Molto bene, molto bene, molto, 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 molto bene. Mangiamo. Gnami gnami. E gnami gnami. Ho detto gnami gnami. Bene. Ho uno squizar qui con me, quindi io metto tutto dentro questo cestino. Vorrei avere un martello, una wrench, un qualcosa di simile che non sia troppo di simile. Perché se è troppo di simile, effettivamente... Ehi. Eccolo qua. Sono pieno di merda. Lo so. Lo so. È una costante abbastanza costante con me, però... Sono sempre pieno di merda. Che cazzo. Ehi. Smetti di laggare, modo di merda. Allora, facciamo... Facciamo... Come facciamo? Facciamo così, così. Accettiamo il terbo. A questo punto, a questa situation, io posso pure rimettere il cosetto sotto, anche che non dà fastidio. Ci mettiamo lo squizar, che riceve corrente. Non mi piace che stai di lato. Voglio vederti... Eh? Oh, bravo. Molto, molto meglio. Ci mettiamo qui il tesseract. Abbiamo corrente. Perfetto. Abbiamo i fruit. Stanno finendo qui dentro le pesche. Vai con le pesche. Intanto sta alveggiando. Le pesche finiscono dentro lo squizar. Quando volete. Arriga? Pesche? Aha! Mazzate, sei velocissimo. E lo squizar, signori e signori, produce il fuffo di fruffa. Cioè, tutto sto casino per il fuffo di fruffa. Sì, esatto. Per il succo di frutta. Eh? Non siete... Non siete contentissimi. Non siete super contenti di avere una produzione automatica di fuffo di fuffa? In realtà c'è anche un'ape della fuffa. Però, non lo so, mi piaceva più avere tipo la vantaggione dei pesche in questo caso. Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib un Temporate Flight Act e un Reinforced Tu Nonna lo mettiamo qua no, non andare dentro al coso o al Tester Act, io non lo uso mai per tutto il resto facciamo così facciamo così questo ci metterà 30 anni a farsi ovviamente ed ecco qua il fuffo di fuffa che arriva ci dà il monk il mulch il mulch, lo smulch che cazzo è lo smulch? ah, ma come che cazzo è? caspita, caspita, caspita lo ben so, lo ben so serve per fare il compost se non sbaglio no, l'humus l'humus in fabola, famoso oppure possiamo fare, uh, il Biomas un altro liquido interessantissimo ragazzi, ragazzi, ragazzi che storia sarebbe interessante farlo allora io faccio così faccio così poi faccio, come faccio? ce l'avrò un barrel dai, voglio un barrel è impossibile che non c'è un barrel eccolo qua eeeh voilà zignori vediamo se qui dentro entra il monk il munch lo sbloomst l'urlo di manche pronto? pronto? aha svegliavolo, va ed ecco il mancino perfetto ta-da produzione automatica di manche e succo di frutta andiamo a vedere se c'è un po' di uh, guarda quello lì cazzo quanto produce, raga cazzarola, cazzarola 100.000 già 100 secchielli incredibolo e qui beh, 88 uh, si vede uh, uh fantastico fantastico, fantastico e allora a questo punto noi abbiamo ancora un'altra tenchina qua ma che, che ma che dite, raga che dite ci mettiamo il biomas eh sono pieno no però so comunque pieno di berta eh eh io da qualche parte, giuro per questo non vorrei fare un relazione oh, eccola qui via, 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 via via not to know via, via, via perfetto, perfetto allora andiamo a fare come si chiama? si chiama Fermenter se non sbaglio Fermenter Fermenter op 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 mi hanno detto che dà fastidio sta cosa che salta ma ragazzi non c'è la portal gun in questa versione di questo pack Fermenter vediamo è lui ma certo che è lui babam cioè così senza colpo a ferire allora noi andiamo vicino l'appliad abbastanza vicino vicini allora di qua ci dovrebbe avere uno, due, tre, quattro, cinque, sei questi qui non ci servono più però sono quattro quindi va bene lo facciamo qui perfetto fantastico allora allora glass nei tubi dovremmo averlo no accidenti accidentaccio allora vado vado un attimo di qua prendo un crafting terminal eccolo qui e dovrei trovare i glass che ho buttato qua dentro due pezzitizi ma che stiamo scherzando me ne fai cento? non hai così scusami me ne fai venti? ok ok gra guarda quanto cazzo è veloce che poi non ho ben capito la logica di tutto il resto però chi se ne frega quanto consumiamo? 800 scialla sciallissima andiamo di qua pim pim no ehi ehi ok fantastico e mettiamo un crafty termina qui così se ci serve qualche cosa io me lo vado a sciusciare poi 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 andiamo a mettere il fermenter qua sotto fermenter ok quindi qui dentro vuole il ci mettiamo l'acqua sapling qua sotto fertilizer e qua sotto esce il biomass d'accordo è una bella una bella sfidetta farlo in quello spazio angusto tra l'altro ma perché lo devo far là? perché sono stronzo ecco perché questa puntata durerà tanto lo so lo so ender tank ender tank ne ho quattro di questo bellissimo colore io ho tanti laviscazzoli quindi non ho paura di usarli facciamo così facciamo badabim 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 vediamo se è quella dell'acqua col cazzo qual è quella dell'acqua? scusate eh eh un attimo soltanto un pezzo iii di blu allora bone mamma mia regà che cazzo di caldo ma sta calando la sera e fa ancora più caldo ma io non lo so ma io non ho parole bingd e bangd e ok questa che è quella dell'acqua poi prendiamo un export buzz e che cazzo ci arriva? ah di mettere in autocrafting il fertilizer io ho l'apatite apatite con l'apatita uh che bello il blocco dell'apatite fantastico e con l'hash facciamo questo qui l'hash se non sbaglio me la dovrebbe dare l'ape del ah tra l'altro volevo farvi vedere quanta cazzo di quellustano ha fatto c'è 568 così ma sono tre ore che sto giocando le ultime tre puntate le ho giocate tutte insieme dovrebbe avermi dato il vediamo un po' no non si chiama ash come si chiama? ah è il pot il fosfor giusto 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 tra l'altro col fosfor e qui ci facciamo non questo ma ci facciamo la lava non so se può interessarvi io sinceramente la lava tendo a non usarla come fonte di energia dunque 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 l'hash non mi sembra un materiale troppo rinnovabile quindi andiamo a fando che andiamo a fando che andiamo a fando che andiamo a fando che andiamo a fando mmm no lascia ecco il cazzo che è rinnovabile no facciamo questo questo qui con la sabbia quindi andiamo a prendere in una crafty type sand di cui abbiamo 4000 pezzi quindi va bene e apatite ci fa il fertilizer craft e lo buttiamo dentro a al molecular assembler dove cazzo stai qua fertilizer gli diciamo di farne un centinaio ma si ma craft ok grazie e poi volevo fare card volevo prendere quella lì che ti permette di fare il crafting cioè praticamente gli dice credo è io sto andando tutto a logica deduttiva perché non ho mai visto niente del genere voglio vedere voglio vedere voglio vedere ti colleghi pronto 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 ok si è collegato perché l'ho messo qua in alto scusate allora dun 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 acqua sotto e turnica perfetto ah ma gli devo dare anche l'energia cospiterina qui non arrivano i cavi qui non arrivano i cavi accidenti accidentaccio e va bene e va bene poi ce ne preoccupiamo al massimo metto un tesseract qua dietro sti cazzi sti cazzi siamo in overbound di materiali possiamo fare un po' il cavolo che ci pare e anche questo è il bello di minecraft tecnico moddato su un cacchio di server quindi voglio dirgli crafta questo qui e vediamo se il tutte cose funziona vediamo dai mettimici dentro il fertilizer mettimici dentro il fertilizer mettimici dentro il fertilizer mettici dentro il fertilizer si 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 lo sta fanno perfetto e a questo punto fast no come si chiama acceleration non ce l'abbiamo le facciamo noi tutto tutto soltanto tre che sono le cose che piacciono a me e allora visto che è soltanto tre io faccio così ci metto una ca capacity yep e vado a prendere i sapling questi qua dove cazzo stanno 8000 signori 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 ci dovremmo essere mettiamo la capacity mettiamo i sapling i sapling che vengono messi qua sopra c'è tutto tranne l'energia andiamo a prendere un tesseract che dovrei possedere in in una una eccola qua fantastico derivazione 1 signori sta funzionando e abbiamo il biomass quindi tank e no come cazzo ha scritto tank un babbeo e adesso il colore incomincio a finirli ci vorrebbe un'altra una mod tecnica con l'ender tank che cazzo di di colore ci metto green ok e non lo so e pink ma che cazzo c'entra e va bene dai ci accontentiamo di questi colori bellissimi facciamo così e così oddio potevano sprecarlo quel green va bene chi se ne frega così e così io vi ricordo che il biomass può essere anche questo non glielo basta vero sei un stronzo di merda che non passi le cose allora 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 fluido non li vedo qui ma li vedo di qua ma certo il veleno percusco ehi disincantati quindi 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 pam spata prim non funziona exact eccolo qui oddio sembra tantissimo una liquid essence ma non lo è è molto più bello gli dicevo il biomass il tasto destro non me lo fa lo facciamo qui biomass può essere raffinato dove è dove è per creare l'etanolo l'etanolo può essere bruciato nel liquid boiler ok ci sono quasi ci sono quasi abbiamo fatto tre fluidi sono contentissimo e basta qui non serve nient'altro perché c'è l'acqua andiamo signori a mettere il nostro ciccio nella nostra tank di corrispondenza e mi sa che la prossima puntata mi toccherà fare altre tankine tra l'altro c'è un sacco di verde no qui voglio staccarla di uno oh ciao come stai scendi no no scendi scendi ciao voglio staccarla di uno lì ci metto un altro liquido di un altro colore e qui signori signori abbiamo il biomas quindi biomas zompiamo di uno abbiamo succo di frutta succo di frutta poi sludge 245 miele yeah miele abbiamo la lava la liquid exp la cacca il creso totototoyl e la liquid essence signori io sono arcus cron e questa è la decka bcraft cazzo che figata ora vi voi salve la cacca e la caccia